Il Fizio Moratti sta fingendo dal centro-verso che non c'è quando la sua candidatura è e non si fa? Ma io ho già detto tante volte che non sono mai preoccupato quando si affronti una elezione in modo democratico, ognuno valuterà i progetti, i programmi, valuterà le proposte che nessun candidato farà e poi si prenderanno delle decisioni.